Buonasera, benvenuti. E ci riempie il cuore vedere tanta gente qua per la presentazione del libro Il diario del destino di Davide Pagnini. Grazie mille. Grazie. Grazie mille. Allora, caro Davide, sei emozionato? Sei nella parte? Sono nella parte che non conosco, perché questa non è una parte che io conosco molto bene, è quella dello scrittore. Però sì, sono emozionato e molto molto contento poi di vedere tutta questa gente qui, per me scrittore. Esatto, infatti io ci tenevo a essere io, proprio io, ad accompagnarti anche in questo primo passo nel mondo dei libri, visto che noi diamo per scontato, che lo sappiate tutti, ma è opportuno ricordarlo, magari anche per qualcuno che ci sta seguendo dalla TV, visto che abbiamo le telecamere di Rossini TV, salutiamo chi ci segue da casa, e Davide Pagnini è conosciuto fino ad oggi, soprattutto come musicista, autore di canzoni, cantautore, cantante, produttore, insomma, quello lì è il tuo mondo. E adesso, all'improvviso, ti troviamo, tra l'altro, a poca distanza dalla presentazione del disco nuovo che c'è stato tre settimane fa e che in questa stessa sala, insomma, ha avuto diversi consensi, diverso movimento. Ti ritroviamo col libro, un po' a sorpresa per qualcuno, per qualcun altro un po' meno a sorpresa, però comunque è una novità. Sì, è una novità che, allora, per me non è una novità, diciamo, proprio momentanea, nel senso che è una cosa che coltivo da tempo. Però sono sempre dell'idea che c'è il momento giusto, c'è il sentirsi nel modo giusto per tirare fuori qualcosa, soprattutto quando si tratta di creatività, no? Di una creazione che comunque, in un modo o nell'altro, ti esporrà. Ti esporrà a qualcosa, ti esporrà a un pubblico, ti farà intraprendere un viaggio, un nuovo viaggio, in nuovi luoghi, tra nuove persone. E soprattutto svelerà nuove parti di te. Questo, credo, sia poi la potenza dell'arte in generale, della creatività e dell'essere artisti. Quello di avere il coraggio di esporsi, no? Ogni forma di creatività è tirar fuori qualcosa di sé e darla, concederla, mettersi anche a nudo e quindi accettare critiche positive, negative, giudizi, tante cose. Adesso mi sono, mi sento pronto per dare una nuova parte di me. Quindi in questo libro non c'è praticamente nulla della parte musicale, musicista, cantautore, così c'è una nuova parte e mi sono sentito pronto. Quindi per me che appunto intraprendo da solo questo cammino verso appunto questo momento da un po' di tempo, poi adesso è proprio una realizzazione, perché sono arrivato dove volevo essere. Certo che poi da solo, già basta vedere la gente che c'è questa sera, è un da solo che si immagina, un da solo con molta compagnia. E il libro è in effetti qualcosa di molto diverso, no? Anche se siamo nell'ambito della creatività. Il libro innanzitutto va acquistato interamente, non è come i singoli, no? Che li ascolti magari anche senza accorgerti per radio, attraverso le piattaforme adesso. Invece il libro uno lo compra o non lo compra. E se lo compra o lo porta a casa, tra l'altro a quel punto o lo legge o non lo legge. Per cui insomma è una sfida ancora più forte, se vogliamo, da un certo punto di vista. Con il libro uno ci convive per un certo numero di giorni, ci vive in salotto, a letto, insomma ci fa diversi momenti della giornata e il libro entra in profondità molto forte, non che la musica non lo faccia, ma il libro entra sicuramente molto forte in profondità e lo strumento che si utilizza per arrivarci, come nel tuo caso la narrazione, perché questo è proprio un romanzo puro, tu avevi già scritto qualcosa, io ce li ho, non ti credere. Pezzi unici praticamente. Riflessioni, frammenti, quelle cose che ti aspetti un po' da un musicista, no? Ti aspetti che scriva embrioni di canzoni, qualche spunto, qualcosa di questo genere è stato fatto in autoproduzione. Qui invece arrivi proprio con il romanzo. Ma partiamo dall'inizio, perché a voi sembrava che avessimo già cominciato, in realtà non abbiamo ancora cominciato, perlomeno non con le cose... Come nei dischi. Questo è l'intro. E partendo dall'inizio, partiamo con una cosa che io dico spesso anche con gli amici, è quella che in un libro a me personalmente colpisce di meno, di solito, no? Perché? Perché io quando compro un libro so già che libro voglio comprare. Per cui in effetti non vengo, come invece capita e sento dire da tanti, attratto dalla copertina, no? La copertina è una cosa importante. E la copertina la prendo in considerazione dopo, cioè comunque volevo quel libro lì, vado e lo compro, poi ah, che bella copertina, ah, che bella copertina. E qui possiamo dire qualcosa di importante sulla copertina, sia per quelli come me che comprano il libro e poi si accorgono della copertina, che per quelli che invece scorrendo tra le 75 uscite quotidiane di novità, 75.000 all'anno, eccetera, devono venire colpiti, per cui chissà chi è che si è preso questa responsabilità di fare questa copertina così importante che ha questo appunto ruolo fondamentale nella scelta, eh? Allora, la copertina è una cosa che mi sta molto a cuore, perché anche nei dischi, no? Il rapporto sempre con la copertina, i singoli, i dischi, no? Gli album, proprio... L'impatto visivo è una cosa che mi piace tantissimo. Cioè, io dico sempre, la musica deve avere anche il suo aspetto visivo. E anche ogni cosa che viene scritta deve avere la sua rappresentazione visiva. E io ho cercato per lungo tempo l'immagine giusta per questa copertina. Perché quando ho iniziato a scrivere questo romanzo, l'ho fatto un po', come dicevi tu, in stile cantautore. Nel senso che ho scritto un capitolo, come si scrive magari un singolo di un disco, e poi da quel singolo vengono fuori un po' di idee e magari portano alla costruzione di un album. Qui ho scritto un capitolo, ma comunque avevo chiaro già dall'inizio quale potesse essere, diciamo, il titolo e soprattutto la copertina. Ma io non... di grafica e di creazione appunto così non ne ho una idea. E è successo però che... Meno male, ci risparmiamo una mostra dei tuoi disegni e dei tuoi conti. Però avevo in mente due frasi, che poi tra l'altro sono due delle tre che si trovano in copertina lì. Cioè, due vite da vivere, un destino da compiere. Queste erano le due frasi che io avevo in testa. Una sera, mentre eravamo a cena con degli amici, io ho detto queste due frasi a un mio amico, che è lì, Fabio, detto Fix. Gliel'ho detta. Lui che invece, al contrario mio, è formidabile nella creazione di immagini, di grafiche, di cose, ha detto, beh, due vite, un destino. si potrebbe effettivamente rappresentare come sì, due immagini di persone contro luce che però creino una sola ombra. Lui l'aveva già visto, insomma. Io così, col pezzo di sushi in mano. L'aneddoto è fondamentale per la biografia. E io sono rimasto, perché, pelle d'oca. Io sento, cioè, scelgo, di solito scelgo nelle mie, appunto, cose creative, scelgo spesso coi brividi. E quindi, brividi. Gliel'ho subito detto, ho detto, che idea? È lei. E soprattutto, poi, e quindi poi, ecco, la copertina che potete vedere è incentrata su questo, no? Le due immagini con un solo, una sola ombra, creano una sola ombra. e c'è un altro personaggio lì, nella copertina, che è l'Africa. Perché, appunto, nel mio libro l'Africa non è il contesto dove si svolgono alcune vicende, ma è proprio un personaggio. E quindi rappresentare l'idea di queste due frasi, quindi due vite, un destino, e mettere la dualità dei personaggi, poi magari ne parliamo meglio, e il terzo personaggio, che è l'Africa. E quindi, complimenti per la copertina. Siccome non capita, esatto, siccome non capita spesso a un autore di copertina di avere il pubblico, l'applauso, è giusto. L'applauso è tutto per lui, perché appunto io ho detto, fai tu, perché tu veramente l'hai già vista, ce l'hai già in testa, e poi quando l'abbiamo creata, e l'abbiamo vista lì, abbiamo detto sì, è proprio quella, e è proprio quella. Allora, abbiamo parlato degli antefatti, abbiamo parlato da copertina, abbiamo comunque parlato anche del titolo, perché comunque abbiamo spiegato, adesso bisogna che cominciamo a ascoltare qualcosa, dal libro come da tradizione, e noi abbiamo Alessandra Giardina, che leggerà il primo degli estratti, ne abbiamo diversi, per cui concentratevi bene. Il sole stava mostrando i primi raggi in lontananza, e una pallida luce romantica pennellava la savana macchiata di sangue notturno. La vita non si ferma mai. Le sagome disegnavano capolavori mentre tutto mutava rapidamente. In sottofondo, cori di uccelli e soffi di vento. Roy non sapeva dove guardare. Le visioni della sera prima si fondevano con la realtà possente. Osservò tutto intorno con un sorriso grato sulle labbra. Percepì di essere totalmente immerso nel mondo, accolto e abbracciato da un unico grande spettacolo privo di protagonisti. Alcune zebre si scambiavano colpi di muso e scalpitavano, alzando nuvole di polvere. Gli elefantini, da poco al mondo, annodavano la proboscide a quella della madre, cercando di stare in piedi, mentre i maschi adulti scorticavano gli alberi con carezze pesanti e segrete. Più lontano si ergevano le giraffe, grattacieli di carne e ossa eleganti domatrici di un mondo apparentemente perfetto. C'era un fiume, piatto e profondo, specchio di linfa vitale, dal quale sbucavano le orecchie degli ipopotami. Gli alligatori osservavano nascosti sotto il pelo limaccioso dell'acqua. Gli occhi di Roi si riempivano di bellezza e maestosità, lacrime d'aria ed amore. Vita senza uomo. Allora io qui quando ci siamo visti hai preso il libro, hai dato un'occhiata così al mio libro, la mia copia, hai visto che avevo preso un appunto, avevo scritto natura, qui c'è questa descrizione molto bella della natura ma l'abbiamo scelto apposta adesso perché hai appena detto che l'Africa è la natura, in Africa è la cosa essenziale insomma che appare che si sprigiona è uno dei protagonisti. Però qui appare anche un primo protagonista, questo Roi e mi viene da sottolineare questa cosa che tu hai fatto, questa scelta sui personaggi di chiamarli con nomi stranieri. Ci vuoi spiegare un po' questa scelta? Allora come ti dicevo prima vado un po' a sensazione e a brividi. Quando ho iniziato a scrivere il primo famoso capitolo quello che poi mi ha dato un po' il via mi è venuto mi è venuto proprio in mente mi è venuta in mente un'immagine che non era ambientata in Italia non era con protagonisti italiani. Avete presente quando vi immaginate una cosa magari io vi descrivo con due dettagli una cosa voi vi fate un'immagine ecco io quando quando scrivo in generale sono un po' così mi autostimolo in questo modo qui cioè mi do delle scintille e poi vedo quelle scintille che immagine mi creano e vedo che immagine mi creano quell'immagine non era in Italia non era con dei personaggi italiani era con dei personaggi che avevano un certo tipo di nome tipo questo Roy che poi sono andato a cercare nel dettaglio perché tutto doveva essere musicale fluido per la lettura anche i nomi ovviamente e quindi ecco sono nomi che proprio mi suonavano così in testa i personaggi Roy Jayden Lucy Freddy eccetera e anche l'ambientazione l'ambientazione a parte l'Africa perché il libro si sviluppa su due binari paralleli e ne parliamo anche più tardi a parte l'Africa l'altra l'altra ambientazione è poco identificabile poco identificata si può capire solo che non è Italia per lo meno non ha le caratteristiche per lo meno non hai sfruttato quelli che potevano essere degli agganci all'idea di Italia che abbiamo tutti e che è riconoscibile per il resto è genericamente internazionale sì questa è una scelta proprio fatta per un motivo che poi non è detto che poi possa uscire questo motivo quando lo si legge ma loro sveliamolo così almeno gli diamo un motivo di vanto per essere venuti qua mi piace poi svelare questa cosa qui cioè quando appunto ho identificato le due linee narrative che compongono questa storia di cui una in parte è ambientata in Africa e l'altra invece appunto in questo luogo più generico io avevo in testa dove era questo non era un punto generico però poi veniva fuori che l'Africa perdesse un po' nei confronti di così tanti dettagli di quest'altra parte e ho detto no l'Africa deve sembrare deve no deve sembrare deve essere la cosa più dettagliata possibile e invece il resto deve essere un po' più così vago libero uno può immaginarsi tante cose invece l'Africa cerco di fartela vedere io io qui ce l'ho segnata te la faccio ma solo se mi prometti una risposta corta corta perché su questo voglio restare poco solo per una curiosità tu conosci molto bene il mondo della musica facciamo prima una riflessione sugli anni che passano che insomma sei piccolo ma mica tanto voglio dire per cui sono molti anni che conosci bene il mondo della musica poi a un certo punto decidi e provi a entrare nel mondo della narrativa dei libri eccetera e come è stata? allora sono breve molto simile alla discografia quindi tanti meccanismi li ho ritrovati poi sì mi sono fatto aiutare da qualche persona già un po' dentro il settore però poi in sostanza mi sono ritrovato anche a riconoscere dei meccanismi che nella discografia sono praticamente gli stessi cambiano un po' i tempi perché in sostanza se io mando un disco che poi ormai non si fa neanche più se io mando un singolo a un discografico lui in cinque minuti anzi ascoltata la prima strofa al primo ritornello sa dirmi se può valere o no coi libri invece le risposte delle case editrici ci sono tre quattro cinque mesi quindi lì appunto mi sono messo nell'ottica di dire io non sono tanto bravo poi con la pazienza quindi mi sono messo nell'ottica di dire ok questi sono questo è un ambito dove più o meno funziona così ma l'attesa è molto più lunga per cui insomma dai ti sei alla fine riambientato alla fine mi sono riambientato e soprattutto ho avuto riscontri positivi ho aspettato sono riuscito aspettare e ho avuto dei riscontri positivi e delle proposte interessanti e poi esatto hai trovato questa casa editrice l'erudita interessante di quelle non a pagamento sottolineamolo una casa editrice vera di quelle che investono sugli autori nel senso che si prendono la responsabilità di vedere poi cosa succede noi anche con questa cosa qua cerchiamo di ripagare la fiducia dell'erudita facendo questa presentazione e ancora una volta sono a ringraziarvi per essere qua a contribuire a collaborare a questa a questa bella riuscita allora entriamo a parlare un po' di più del libro perché da quello che ha letto Alessandra si è capito ma per adesso era solo una bellissima descrizione di natura si è capito che scrivi bene quando descrivi la natura ma questo chi ti segue chi segue le canzoni che insomma riesce a mettere le parole un po' già lo sa entriamo nella storia un pochino più nella storia del libro c'è questo questo doppio binario no? questa situazione parallela con dei personaggi che vivono due vite parallele anche abbastanza complesse e articolate con un sacco di accadimenti di avvenimenti di sviluppi di snodi insomma tante cose però diciamo che andando avanti è un capitolo dedicato a due personaggi l'altro capitolo dedicato a uno e basta quasi diciamo c'è una giuntina ma insomma così e poi si ritorna all'altro e poi si ritorna all'altro e anche il lettore più attento e anche quello che si fida di più dopo un po' comincia a domandarsi ma cosa c'entrano? e va avanti e va avanti e va avanti e va avanti allora non so se faccio male a dirvelo c'entrano comunque non è che non so non è stato così cattivo da portarvi fino alla fine non è uno spoiler la prossima volta potrebbe essere divertente fare un libro che alla fine non c'entra niente però qui c'entra però insomma lo sviluppo è stato bello, lungo e articolato c'è stata questa scelta di tenere questa no? guarda lo sviluppo è stato articolato anche per me cioè è stato pesante l'attesa è stata pesante anche per me perché ho iniziato a scrivere io ho iniziato a scrivere con questa idea già della dualità della doppia storia e quindi non ho fatto come fanno in molti in questa tipologia di narrazione che prima scrivono una storia poi magari scrivono l'altra poi provano a incrociare no? io scrivevo proprio così a passo di libro come si dice c'è un capitolo un altro un capitolo un altro anche perché non è solo questione che c'è una storia ce n'è un'altra ci siamo io ci sono io che vado qui te che vai lì ogni volta cioè ho fatto questo perché ogni volta che scrivevo una coppia di capitoli quindi di uno e dell'altro cercavo di mettere dei riferimenti cioè in ogni capitolo ci può essere e poi tra l'altro vi invito anche se lo leggerete a trovarli a farci attenzione cioè sono vite apparentemente distantissime ma in ogni vita c'è sempre qualcosa che può assomigliare alla vita di qualcun altro anche se apparentemente è dalla parte opposta e quindi io ho continuato così ma a un certo punto poi sapevo dove volevo arrivare ma i personaggi hanno iniziato a vivere da soli che adesso sembra una pazzia questa cosa che sto dicendo però in realtà che poi chi scrive probabilmente se ne rende conto cioè scrivi di un personaggio costruisci un personaggio che poi però facendo delle cose causa delle cose e quelle cose che causa però quelle conseguenze non le puoi lasciare stare perché poi se le lasci stare potrebbero crearsi delle incongruenze o delle cose non dette che magari anzi magari quelle conseguenze ti piacciono anche e dici oh che bella sta cosa che è venuta fuori gli ho fatto fare una cosa però la conseguenza non ci avevo pensato bella da lì può partire tanto altro no? e quindi le azioni dei personaggi e i loro caratteri sviluppano sviluppano linee narrative anche inaspettate quindi a un certo punto come dici te a un certo punto io dicevo ma ce la faccio a far trovare un punto di incontro che ce l'ho in testa ma ce l'ho fatta alla fine sì sì nel senso poi alla fine ce l'ho fatta alla fine svegliamo sì sì penso che adesso sono abbastanza nuovo del mestiere scrittore come dicevo però penso che la fatica dello scrittore sia anche quella certo cioè di accompagnare i propri personaggi senza voler dire sono io lo scrittore sono io il padre e quindi decido io quando te stai al tuo posto e dove stai lasciarli fare forse è la via migliore per creare la narrazione giusta giusto adesso tocca a te perché tocca a te come lettore perché abbiamo deciso che questo pezzo che è invece dell'altra dell'altra parte se vogliamo dell'altro personaggio di questo Jaden che è un personaggio che viene dal mondo dello sport e che comunque è un personaggio anche molto diverso dagli altri due e vive una vita anche molto frenetica e tutto abbiamo deciso che lo devi leggere tu va bene mi piace leggere questo a parte che è un'emozione cioè colgo l'occasione per dirlo è un'emozione incredibile sentire leggere cose appunto che che ho scritto perché non mi era mai successo di sentirle leggere quando scrivo una cosa di solito la canto io quindi grazie veramente ok leggo questa parte qui il pugile piegato non è mai sconfitto il maestro Rick la faceva facile dispensava saggezza se non vuoi mollare non molli o sei morto o sei vivo il resto spetta a te 400 flessioni e 2000 addominali jayden jayden stava sputando l'anima spingeva su e giù il corpo distrutto dopo quel terribile incontro il maestro era seduto sulla sua schiena non si poteva sottovalutare l'avversario non si poteva cadere vittima del proprio ego non si poteva uscire sconfitti da se stessi e invece jayden l'aveva fatto era in forma potente e scattante lucido riposato tranquillo troppo tranquillo l'animaletto tutto nervi di fronte a lui non avrebbe potuto scalfirlo braccia corte e poche spalle costole fragili e sguardo di paura un incontro fin troppo facile e invece la bestiaccia aveva tirato fuori le unghie affilate aveva mostrato una tecnica sopraffina e sferrato colpi invisibili e veloci jayden era cascato nella fottuta trappola mortale aveva spento il cervello e fatto scendere l'adrenalina montante gancio passo laterale montante passo indietro gancio una danza ed ecco l'avversario festeggiare a fine match e jayden a passare notti sconce per dimenticare non si può dimenticare nulla rick l'aveva presa male non stava costruendo un perdente né un egocentrico spocchioso del cazzo umiltà dedizione e lotta per la vita senza questo era solo una scarica di pugni hai fatto schifo jayden non hai rispettato il tuo avversario né te stesso gli aveva ringhiato in faccia andiamo ad allenarci jayden non aveva avuto la forza di parlare non avrebbe saputo cosa rispondere la verità si era mostrata severa e giusta ed eccolo lì a sputare sangue sulle gradinate della palestra dopo un incontro malvagio che lo aveva spezzato dentro tremava fino ai capelli spasmi di dolore e sconfitta completa la tua serie di addominali poi farai un'ora di scalini quando avrai finito potrai andare a pensare rick non mollava la presa voleva ucciderlo la notte era finita in lacrime e vomito liquidi rigettati da un corpo sfatto Jaden non sapeva più muoversi si era accasciato in un angolo come un cane bastonato era restato a tremare fino all'alba prima di andarsene il maestro gli aveva parlato non alzarti finché non avrai deciso chi sei stare in piedi costa sacrificio e il sacrificio merita rispetto è l'arte più nobile che possiamo apprendere mentre ascoltavo a te visto che io a te ti ascolto cantare mi è venuta in mente una cosa è come se te ti fossi preso una specie di rivincita sulla necessità quando si scrivono canzoni di togliere cioè nelle canzoni bisogna togliere bisogna lasciare la frase secca bisogna rimanere all'essenziale andare ancora meno dell'essenziale qui invece ti sei rifatto sei andato insomma sul descrittivo hai approfondito però anche qui tra l'altro anche graficamente nel libro ogni tanto c'è qualche frase secca in corsivo c'è un filo che lega queste frasi cioè se io adesso prendo il libro e mi metto a leggere solo le frasi in corsivo scopro qualcosa di segreto e vinco qualcosa oppure è semplicemente una sottolineatura qualcosa che volevi fare diverso allora scopri qualcosa di segreto sì vinci qualcosa o no però sì allora ci sono delle frasi scritte in corsivo in questo caso c'era una frase che non si può dimenticare nulla le frasi in corsivo sono i miei pensieri istantanei cioè mentre scrivevo avevo certi impulsi certe visioni che un po' poi con la musica mi collego a quello che hai detto è più difficile cioè nel senso scrivi una canzone devi tagliare stai già dicendo quello che pensi sei già tu in prima persona che dici quindi è tutto un corsivo invece qui nella narrazione dei personaggi nella storia negli avvenimenti ogni tanto io dovevo dirla la mia cioè lì lì quando 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 lui per esempio prendo come esempio quando lui è lì distrutto dopo un match finito male che doveva finire bene con grandi aspettative ma finito male e lui dice no passerà notti sconce per dimenticare sono io che prendo il personaggio e gli dico non si può dimenticare non ce l'ho fatta tenerlo per me capito in certi punti e quindi ho messo lì e unendo io ci ho provato a fare quello che hai detto prendendole tutte unendo viene fuori una cosa interessante bene altra dritta che stiamo dando a chi ha avuto voglia di venire alla presentazione dal vivo è che invece non saprà chi compra solo a meno che non guardi la trasmissione sui rossini tv e insomma diciamo che le possibilità ci sono no molto molto bella questa cosa qua e oltre a questo filo che lega c'è un'altra cosa che mi ha colpito all'inizio perché io non ce li ho i tatuaggi parli dei tatuaggi addirittura c'è all'inizio una descrizione e c'è una sorta di identificazione del tatuaggio nel vero senso della parola come marchiatura forte della persona al punto che questa persona diventa quasi vittima di questo tatuaggio che lo sfigura e lo presenta quasi per quello che è e non è che sia un granché te i tatuaggi ce li hai? sì io ne ho due per ora e avevo anche promesso a me stesso di fare un tatuaggio non di quelli descritti nel libro non di quelli descritti nel libro no legato al libro però sì comunque sì li ho la simbologia il linguaggio in sostanza e in effetti ogni simbolo ogni tipo di linguaggio comunque identifica chi lo mette in campo e quindi è una scelta coraggiosa farsi un tatuaggio io credo per quanto mi riguarda soprattutto quelli che ti scrivi in faccia soprattutto ecco sì esatto ci sono tatuaggi molto forti molto appunto che identificano tanto ma tu hai scelto di essere così hai scelto di identificare di dimostrarti in un certo modo con dei segni dei simboli sulla pelle che tra l'altro sono indelebili e quindi è proprio una scelta molto forte e questo tipo di linguaggio quindi il tatuaggio è una cosa che mi ha sempre fatto tra la paura e non so e l'invidia cioè uno che riesce a farsi dei tatuaggi con facilità dico ma che coraggio però dico ma anche magari è stato un po' incosciente mi chiedo sempre questa cosa qui e quindi ecco questo è un po' l'importanza di questo personaggio che appunto si mostra con tatuaggi così forti dovrebbe stimolare un po' la domanda del ma lui è ancora così oppure quelli sono simboli che lui in un tempo passato quando era in un certo modo ha voluto esprimere che cosa può venire fuori da un linguaggio di questo tipo questo di seguire i simboli che ci sono nel libro è il consiglio che vi do quando e se e quando lo leggerete perché ce ne sono tanti perché ci sono diversi simboli diverse metafore diverse situazioni quando te l'ho detto l'altro giorno che quando è arrivato finalmente questo leone bianco perché a un certo punto siamo in Africa ragazzi appare lungamente cercato finalmente appare un leone bianco che c'è anche un nome poi tra l'altro e quando appare diciamo la prima idea che ti viene visto che sei arrivato a quel punto comunque trepidando e faticando anche andando avanti con loro eccetera e ti sembra quasi che possa essere una metafora il leone bianco Moby Dick era bianco insomma voglio dire invece no il leone è vero cioè c'è e serve poi a tutto lo sviluppo narrativo ma al contempo però questo leone poi non è solo quel leone ma è un leone che verrà fuori più tardi in tutta una situazione legata a tutto un impianto tribale di riti pseudo religiosi che comunque è un altro un'altra metafora è un altro bell'impianto del libro insomma c'è parecchio e la domanda è ma quella parte lì te la sei inventata oppure hai attinto a qualcosa che esiste perché c'è tutto un impianto anche abbastanza strutturato di riti e di controriti e di battaglie insomma c'è dell'avventura legata a questa cosa allora sì la simbologia comunque è una cosa fondamentale in questo in questo libro e mi piace poi appunto rapportare cioè collegare la simbologia il simbolo all'aspetto reale di quel simbolo e anche magari mettere lì un'idea di come come potrebbe essere nato questo simbolo magari proprio da una cosa di quel genere lì che realmente che realmente accade che realmente esiste potrebbe essere mi piace metterli delle domande no così e provare a dare una mia interpretazione per quanto riguarda l'Africa e la tribù i riti i rituali la simbologia è tutto inventato cioè l'Africa no ovviamente l'Africa ci sono stato quattro volte ho visitato diversi posti descritti nel libro li ho visti e l'Africa mi ispira tantissimo canzoni scritti e quindi l'Africa mi ha dato proprio un'apertura mentale direi proprio una fantasia cioè è presente quando ti fai quei viaggi mentali che sono quasi dei film all'interno della tua immaginazione e quindi l'Africa mi è sembrata veramente una madre incredibile e fortissima potentissima per rappresentare tutta questa simbologia che però mi sono inventato non è che andiamoci in Africa allora ci andiamo addirittura in un momento familiare casalingo si cena è ora di cena è ora di mangiare con questa famiglia dopo cena madre Machena accese tre fuochi gettandoci dentro piante secche dagli aromi ubriachi la capanna di legno si trasformò in una ciminiera profumata aria bianca e visioni pazze i bambini padroneggiavano i tamburi picchiavano le pelli con mani callose intonavano melodie armonie naturali di voci libere suoni profondi come un buco nero e le femmine danzavano passi morbidi con piedi duri gonne roteanti alzavano le polveri smuovevano i fumi e gli odori speziati i fuochi duettavano scoppiettanti il crescendo trasportava l'anima un tumulto di pugni allo stomaco e carezze alle labbra baci sperati Roy non poteva credere a nulla non era pronto odiava a se stesso per non avere vissuto prima quella vita aveva paura paura cerebrale e istinto d'amore dentro i vapori bianchi ci vedeva sua madre nervosa e la gita di prima elementare un branco di elefanti e la mensa a fredda della caserma il primo libro della vita i sogni di ieri le promesse pronunciate allo specchio un giorno sarò grande si accasciò nel profumo di un angolo a godere di visioni gratuite le ombre danzanti sulle pareti di fuoco conducevano dritte all'inferno sirene provocanti e ventagli di palma fresca succhi di cocco in faccia e lingua a leccare l'aria dura qualcuno salì sul tavolo e iniziò a combattere furia fraterna e sudore da bere a bracci e spinte e tonfi possenti risate da masticare mondi lontani il rito andò avanti per due ore finché i fuochi non si placarono e gli odori tornarono puzza di letame le donne si ritirarono alla svelta i bambini erano già nascosti e tra i loro sogni Roy dormiva beato freddy invece se ne stava seduto su una panca di legno fissando la boccetta di vetro che teneva in mano sentì una presenza dietro di lui e una mano sulla spalla fratello la benedizione di madre Mackena funziona sempre domani troveremo il vostro leone ora vatti a riposare partiremo fra poche ore freddy allungò un braccio con espressione amica grazie Waka ma non ascoltò restò sveglio a pensare per tutta la notte bello sentire leggere così allora una fatica positiva incredibile dei brividi una sudarella incredibile ascoltare queste cose allora a questo punto viene da pensare che l'Africa sia dipinta come una bella cartolina prima abbiamo visto questo bel pezzo di natura adesso questa vita familiare tutti felici e anche i due protagonisti tra l'altro all'inizio la partenza l'hanno fatta quasi con quell'idea lì lo possiamo dire è un fotografo col suo assistente il fotografo va a fotografare l'Africa da portare a casa insomma per cui diciamo che messa così potrebbe essere una roba non da villaggio turistico però insomma sicuramente da bella vacanza però in realtà la cosa non prosegue non prosegue proprio su questi binari prima della prossima lettura che poi è molto è molto chiara di un paio di parole su questa svolta poi quando sono stato in Africa ho avuto subito subito questa netta questa visione davanti cioè la netta distinzione tra l'immensità della bellezza il luogo più bello che ci potesse essere sul pianeta e la fatica degli esseri umani nel viverci cioè questo contrasto che poi è espresso anche nella natura come come ce l'ha scritto prima no la vita non dorme mai non si ferma mai e questo immenso contrasto tra la gazzella che veramente vive per scappare il leone veramente vive per nutrirsi della gazzella perché sennò non ce la fa non è come i detti che diciamo noi quei detti lì sono veramente una cosa primordiale selvaggia in più vita senza uomo quella frase vita senza uomo perché in Africa io mi sono reso conto proprio che l'uomo c'entra pochissimo con un luogo come l'Africa cioè che infatti non ce la fa a starci o se ce la fa si deve veramente arrabattare in ogni modo per riuscire a combattere contro una una natura così selvaggia così potente che lo spazza via a ogni piccolo errore e quindi l'Africa è anche violenta di sangue selvaggia ma è giusto così sentiamo allora come la descrivi nell'apertura di un capitolo l'Africa scotta l'Africa ti lascia solo madre bastarda figlio penitente l'autista dell'autobus aveva la pelle scurissima e secca simile a quella di un iguana tutto puzzava in Africa tutto sorrideva è incazzato in Africa cantavano sui sedili posteriori con voci rotte profonde cantavano melodie bellissime da piangersi addosso scendevano gocce nervose dalla fronte le mosche ronzavano e il caldo stringeva assassino Roy si guardava intorno rapito visto dai suoi occhi sembrava tutto un paradiso ma l'Africa scottava e non si poteva immaginare tutti i libri non erano serviti a niente Roy era un neonato terrorizzato e vibrante la strada di terra tranciava il nulla a metà e il grasso uomo al volante aveva un'espressione finta di plastica sciolta farà questa strada dice volta al giorno pensò Roy intercettando il suo sguardo stanco nello specchietto retrovisore estrasse dallo zaino una bottiglia d'acqua e beve sorsi pesanti tiepida e schifosa sensi accentuati dietro continuavano a cantare mentre l'autobus malconcio sombalzava maledetto per attraversare un ruscello sottile tutto nella norma Roy pensò a casa sua a sua nonna che a quell'ora preparava il minestrone al profumo del suo cuscino alla scelta di accettare quel lavoro al compagno di viaggio che per la prima volta non era in grado di tranquillizzarlo alla savana fuori dal finestrino a tutto il tempo trascorso sui libri storie mute qualcuno gridò una parola incomprensibile e l'autista inchiodò di colpo una nuvola di polvere invase le narici e si posò sul cruscotto metà dei cantanti scese dalla porta scorrevole sul retro continuando a sputare la voce rauca con la sacca di pelle in spalla e i sandali stracciati roi li guardò mentre si allontanavano e diventavano puntini in mezzo al niente storie inghiottite dall'orizzonte il bus riprese la sua corsa spedita verso una meta invisibile all'ombra di una valle verdeggiante piena di animali che si abbeveravano sulle sponde di un lago era uno spettacolo stregato una di quelle cose che quando le vedi per la prima volta ti fanno credere di essere niente e dopo un po' ti fanno masticare oro non come i libri trampolino di fantasia in Africa se ti guardi le braccia spuntano le piume non credevo potesse esistere un luogo così questo è niente roi scoprirai cose che vanno oltre l'immaginazione già fatto spero di essere pronto quando mai siamo pronti non lo so e soprattutto pronti per cosa un passo nel vuoto il contrario di tutto ci tuffiamo al mio tre sì perché c'è questa cosa perché naturalmente noi ogni tanto abbiamo ondeggiato abbiamo girato intorno ma c'è uno sviluppo una narrazione c'è una storia coinvolgente c'è una storia di un'amicizia possiamo dire che è una storia importante c'è una storia di una vita irrisolta che è dall'altra parte e c'è anche una storia d'amore è un amore africano però non poteva essere diversamente cioè non può essere un amore di quelli a cui siamo abituati o perché li viviamo o perché li vediamo al cinema un po' all'occidentale qua le cose non vanno proprio lisce e lisce soprattutto all'inizio c'è un po' di difficoltà all'inizio non voglio svelare troppo però insomma non è proprio la storia d'amore quella che ci aspetteremo anche se poi c'è questo questo bel pezzo che poi dopo Alessandra dopo la tua risposta leggerà che fa ben sperare invece l'Africa l'Africa appunto ormai penso si sia abbastanza capito come io vedo l'Africa dalle parole che ho scritto l'Africa tira fuori dalle persone qualsiasi tipo di sensazione che comunque si provi a nascondere non puoi nasconderti in Africa è come se tu fossi sempre davanti a uno specchio in sostanza dove ti giri c'è uno specchio e c'è sempre il tuo riflesso lì che ti tartassa finché tu non gli dici la verità fino in fondo lui continuerà a ridarti un riflesso che tu non vuoi accettare è un po' così l'Africa e quindi e quindi anche l'amore come fai a nascondere un amore come fai a tenerti dentro un amore la mia metafora dell'Africa io ovviamente provo questo per l'Africa ma per tanti posti selvaggi parlo ancora di più parlo della natura quella primordiale quella quella selvaggia che che ti tira fuori quello che hai dentro di selvaggio e di primordiale non puoi nasconderti prima o poi te la tirerà fuori quella cosa e quindi puoi cercare di nascondere l'amore puoi cercare di schivarlo perché a volte non è conveniente perché magari no certe situazioni possono incastrarsi in modi sbagliati per te per la tua testa ma non per la natura che ti dice è quello il tuo istinto è quello il tuo selvaggio sentire tiralo fuori se no te lo tiro fuori io e quindi l'amore con questa apparizione già definita subito una dea che appena appena arriva sì esatto sempre per la simbologia la simbologia di rappresentare un qualcosa che ti abbaglia e qualcosa che è forse anche più dell'amore che noi concettualmente rappresentiamo l'amore una dea da quel bacio tutto cambiò ogni attimo era buono per nascondersi dietro qualche angolo a consumare l'amore selvaggio si macchiavano di sudore inebriante morsi di sangue lei graffiava lui gemeva e diventavano un corpo unico cosce e seni sbattute nella sabbia lingue bagnate e fango sulla pelle non potevano più vivere senza l'amore cieco apriva in due la cassa toracica e strappava il cuore vivo prendendolo a pugni fino a farlo scoppiare un dolore di benessere puro agli occhi di eroi lei era diventata ancora più bella ora che ne conosceva le sfumature più intime poteva avventurarsi nei segreti del suo corpo la sognava di notte si svegliava grondante di sudore scagliattolava fuori dalla tenda e correva a prenderla di nascosto sotto il chiaro di luna percorrevano lo stradino laterale uscivano fuori dalla staccionata ad attendere c'era l'enorme acacia secolare che sembrava volerli abbracciare con la sua chioma larga si sbraiavano baciandosi e ansimando si fondevano con il mondo e con l'istinto naturale di possedere l'amore la pelle bianca rifletteva la luce della notte e faceva impazzire a Chini che la carezzava e ne divorava l'odore era una pelle così sottile candida da non volersi mai staccare qualche notte si addormentavano lì e si svegliavano con il sole in faccia correvano alle loro tende prima che qualcuno potesse accorgersi del loro rapporto segreto eppure in molti già lo sapevano torniamo a queste frasi secche che prima abbiamo parlato di quelle in corsivo che abbiamo capito benissimo sono queste irruzioni che te non potevi fare a meno non puoi fare a meno di fare come autore perché a quel punto ci sta bene quella riflessione però di frasi secche ce ne sono qua e là no? andando avanti nella lettura del libro io a un certo punto quasi verso la fine mi sono reso conto di una cosa di una strana assenza questo libro è pieno c'è tanto dentro ma manca o perlomeno lì per lì ho fatto questa riflessione ho detto ma qui manca la musica strano il libro di un musicista di un cantautore di un produttore e non c'è mai la musica non ce ne ha sì c'è un momento in cui suonano i bonghi ma siamo in Africa non potevo essere diversamente insomma ma se no sarebbe stato uno scandalo però altri momenti non ce ne sono poi andando avanti ripensando proprio a questa frase a questa cosa da chiederti a questa domanda da farti ripensando ho detto beh aspetta un attimo vuoi vedere che queste frasi invece secche che spesso chiudono i capitoli che spesso chiudono i concetti perché poi sono molto nette perché poi la prosa fluisce anche in certi casi abbastanza libera abbastanza lunga e poi si sintetizza con una frase vuoi vedere che la musica è quella sì ci eravamo un po' preparati questa cosa qua no no sì non c'è musica non c'è musica nella narrazione nella storia i due personaggi i più personaggi non solo due ma comunque i personaggi in generale non c'entrano nulla con la musica e non è neanche così importante la musica nella loro vita ma lo è nella mia e dato che l'ho scritto io il libro ho deciso di appunto per il discorso che facevo prima di lasciarli andare per la loro strada un pochino anche se a loro non interessava la musica perché forzarli però a me interessa molto la musica e quindi il modo la forma in cui con la quale ho scritto questo libro è la musica di questo libro come appunto magari potete accorgervi dalle letture no? è questo quelle piccole frasi quelle frasi corte d'effetto incisive con una metrica non c'è una parola del libro che io non abbia scelto dopo averla letta ripetutamente a voce alta tante volte mi sono ritrovato a modificare paragrafi capitoli frasi perché anche se tutte le parole erano perfettamente giuste non scorrevano con la metrica la sillabazione cioè io l'ho lavorato questo romanzo l'ho veramente lavorato come un'unica canzone quindi si dovrebbe leggere come veramente un testo quasi di una canzone ecco dov'è la musica è nella forma perché la forma qui è il contenuto allora a questo punto ci sta ci sta che però visto che la musica è così importante nella tua vita ne ascoltiamo un po' perché poi non l'abbiamo messa solo per scenografia anche però non l'abbiamo messa solo per scenografia questa sì perché non la suonero io ma quella è attaccata scrutava l'aria lo faceva spesso ci vedeva pazzesche animazioni che raccontavano fantasie luminose il cervello lavorava senza sosta stimolato da pensieri innovativi alle prese con minuscoli impulsi vitali che prevedevano l'ingresso della speranza e del futuro Roy non ci aveva mai pensato al futuro nei libri era tutto già deciso poteva correre all'ultima pagina e conoscere il finale della storia facile veloce privo di sforzo motore elettrico e silenzioso il futuro della vita invece picchiava sulle spalle e versava mattoni sporchi dentro il suo zaino mentre lui era intento a districarsi nel reticolo dei comportamenti perché si viveva di quello di comportamenti non di parole Roy si era deciso e aveva iniziato a sperimentare usciva di casa quando ne aveva voglia seguiva l'istinto e lasciava liberi i passi di andare dove volevano era una sensazione era una sensazione liberatoria movimenti incoscienti espostamenti improvvisi corse fradice prima di stendersi sull'erba e baciare il cielo che rispondeva con pioggia sulla pelle andava bene tutto era la realtà da assaporare passeggiava a lungostrate sconosciute e scopriva la città dove non aveva mai vissuto l'ombelico del suo mondo pressato dentro una fragile cameretta minuscola briciola di esistenza attraversava il parco respirando piano e facendo roteare le braccia perché ne aveva voglia e basta perché il corpo era il suo e l'aria trasparente regalava spazio a tutti si riappropriava di sé e della percezione reale che aveva assopito da sempre allora mentre Davide mette a posto la chitarra già che siete nell'applauso l'allunghiamo anche per Alessandra che sta leggendo non ha finito ancora però intanto allora queste cose che facciamo si fanno per dei motivi ben precisi si fanno per fare in modo che la gente conosca quello che viene presentato compri il libro ma soprattutto lo legga per cui abbiamo fatto tutto sì perché io ci ritengo a sottolineare questa cosa non è la stessa cosa io sono uno che compra molti libri e poi non riesce a leggerli tutti mannaggia per cui devo anche scegliere perché però noi vorremmo che questo libro fosse comprato e letto e allora gli stiamo dando tutti i motivi tutte le cose in questo libro come avete capito c'è musica c'è anche cinema secondo me perché io ci ho trovato un po' allora innanzitutto dai a loro lo possiamo dire l'abbiamo già detto cioè le due storie si collegano alla fine cioè non abbiate timore fidatevi a un certo punto fidatevi perché a un certo punto le due storie si collegano in maniera sorprendente ma si collegano e questo qui è già un bel modo di gratificarli e di dare ancora più valore diciamo al libro dentro questo libro io ci ho trovato un po' di cinema ci ho trovato Tarantino ci ho trovato insomma un po' di taglio anche questo taglio spostato alternato per essere Tarantino forse un po' troppo alternato un capitolo un capitolo devi farne cinque e poi mezzo però diciamo che comunque l'idea l'idea c'è e non fai mancare proprio niente addirittura a un certo punto alla fine quando il libro sembra avviato a conclusione oh finalmente siamo arrivati siamo arrivati tac arrivano i personaggi nuovi allora te sei lì che guardi ma scusa quante pagine mancano perché arrivare un personaggio adesso come fa arrivare un personaggio adesso insomma era una scelta o anche lì hai aperto il cassetto e tenato il personaggio insomma una via di mezzo nel senso che io avevo in mente la stesura appunto delle linee narrative e comunque volevo non rendere banale diciamo tra virgolette la struttura nel senso che sì due storie parallele poi sì si incontrano poi sì invece no cioè io volevo che ci fossero colpi di scena continui un po' alla cinema appunto colpi di scena continui capovolgimenti così istantanei che in un attimo possono spiazzarti e dire ma come tutto quello che ho letto fino adesso poi succede e quindi poi soprattutto mi ero così detto ho detto proverò a inserire una linea narrativa in un momento in cui io non mi aspetterei mai una linea narrativa nuova una sfida e io vado molto avanti così a sfide quindi se dico quella canzone lì non riuscirei mai a scriverla stai pur certo che tutte le mie prossime sfide saranno per riuscire a scrivere una canzone così e quindi con le sfide vado molto avanti non tanto con gli avversari per tornare allo sport ma con me stesso e questa era una sfida grossa quella che senza fare appunto spoiler o anticipazioni troppo grosse però quella che appunto guardi le pagine e dici beh dai ormai è finito arriverà e invece arriva qualcosa che io da lettore non mi sarei mai aspettato quindi io sono molto molto fiero di esserci riuscito perché per me la sfida lì l'ho vinta ce l'ho fatta inserire quella cosa lì per quanto riguarda il cinema qualcuno di voi ha visto Lost? bravo ecco allora io vi consiglio vivamente posso fare una pubblicità a Lost? ah sì sì credo che Lost una serie che a me ha cambiato la vita e che ha fatto un po' sì che io scrivessi questo libro in questo modo cioè alla fine di ogni capitolo alla fine di ogni punto chiave c'è un qualcosa che è un colpo di scena che è un finale che non è un finale che ti riporta lì ti riporta lì collegato e l'attenzione deve essere sempre così agganciata da qualcosa di inaspettato Lost è un po' così quindi per me è stato un po' così allora adesso poco prima di chiudere conosciamo questo nuovo personaggio che arriva e io volevo sottolineare una cosa che forse avrei dovuto dire all'inizio ma anche no perché va bene detta anche adesso naturalmente nelle letture non abbiamo assolutamente rispettato l'ordine del libro abbiamo saltato dalla fine all'inizio abbiamo volutamente mescolato le carte in modo che nessuno di voi possa farci un'idea insomma di questo c'è un'ultima lettura e poi dopo ci salutiamo con il promotion finale e basta se c'è qualche domanda preparatevela ma non so se ci sarà ogni domanda è ben accetto sempre sono assolutamente disponibile conosciamo questo nuovo personaggio Gabriel non era mai morto o forse sì nessun ricordo dell'accaduto la guerra la trincea il sangue le mine che facevano saltare le gambe l'aereo la fuga lo schianto la fine o forse no dentro la testa c'era un benessere vuoto e rilassato mai provato prima sembrava di poter volare sopra le cose e guardare tutto dall'alto corpo senza peso e aria densa da nuotarci dentro il cuore non batteva più di questo nero sicuro si tastò il petto con la mano mentre fissava il cielo azzurro macchiato da nubi dense di fumo tutto intorno grida di rabbia e dolore urla di addio e morte imprecazioni verso gli dèi sordi eppure Gabriel stava bene non faceva più parte della realtà e questa consapevolezza uccideva la paura che bello non avere paura da molto tempo lui e i suoi compagni vivevano tremando con incubi da scuotere il sonno e i sudori freddi senza preavviso la guerra uccide prima ancora di sparare le fiamme continuavano a divampare e l'aereo spezzato a metà si scioglieva come la resistenza di chi ci stava dentro in pochi minuti piombò il silenzio assoluto la voce muta di chi è passato oltre Gabriel attendeva felice il momento in cui i suoi occhi si sarebbero riaperti altrove alla luce di un sole nuovo e benevolo ricongiunto con gli altri e invece no il destino bastardo non aveva scritto nulla di tutto ciò due mani pallide lo afferrarono per la maglietta stracciandola con uno strappo violento volò uno schiaffo sulla guancia destra e un pugno sullo sterno ferito Gabriel non aveva mai immaginato che gli angeli fossero così irruenti le percosse però non provocavano dolore quella figura sfocata sembrava intenzionata a salvarlo ma il cuore non batteva più e la fine era ormai giunta era uno schifo morire a 25 anni in guerra senza nemmeno conoscere chi ti ci aveva mandato lontano da casa precipitando con un aereo in mezzo al nulla eppure era andata così a lui e a tanti dei suoi compagni bisognava farsene una ragione esalò l'ultimo respiro di pace riuscì a sorridere dentro l'inferno e fu la fine o l'inizio questa è l'apparizione di un nuovo personaggio l'abbiamo voluto far sentire perché tanto comunque finché non ci si arriva non ci si arriva allora Davide che facciamo chiudiamo qui io volevo solo fare un accenno su questo epilogo poi che c'è che è divertente perché a me mi ha ricordato un po' anche in quel caso i film come è andata a finire Animal House senatore Bluto chi l'ha visto senatore Bluto Blutarski signora non dico nient'altro dico solo questo per chi per chi in complicità sa di cosa sto parlando e per cui c'è questo epilogo che che lancia lancia qualcosa e ti lascio lanciare l'ultima l'ultima parte di questa di questa nostra chiacchierata e poi sentiamo se qualcuno ha qualche domanda da fare allora guarda a parte che io si fatico sempre a parlare dopo le letture perché sono dei pugni veramente incredibili e questo questo romanzo per me è stato è stato un viaggio incredibile e credo che nella scrittura io poi sia diventato uno di questi personaggi che però non c'è nel libro quindi ero ero lì a vedere la storia di tutti questi personaggi accompagnarli a farmi dare veramente degli schiaffi in faccia certe volte delle carezze altre volte e quindi è stato un viaggio per me molto scusate la ripetizione di sta parola ma selvaggio questa è la parola chiave che io ho sempre avuto in testa e che e che è importante secondo me se se dobbiamo se dobbiamo provare a vivere e a buttarci nelle sensazioni in un modo a me piacerebbe farlo in modo selvaggio cioè cercando di sradicare qualche schema di troppo qualche rigidità sociale di troppo e provare a tornare al pulsare primordiale che forse solo l'istinto naturale ci può donare vi guardo con uno sguardo interrogativo per vedere se qualcuno ha qualche domanda c'è una domanda Giorgio Giorgio ci chiede quanto tempo hai lavorato alla stesura del libro l'idea è nata in spiaggia mentre camminavo e parlavo da solo a voce alta nel 2011 il coraggio di scrivere il primo capitolo per vedere se per me potesse essere un mondo esplorabile è nato nel 2016 la consapevolezza che potesse essere un mondo esplorabile è nata nel 2018 da lì non mi sono più fermato quindi da lì un annetto di lavoro tra tutto da quella prima scintilla che appunto mi ha fatto dire cavolo potrebbe funzionare potrebbe essere un mondo esplorabile per chi mi conosce un po' nella musica comunque come diciamo artista a me piace esplorare i mondi esplorare i mondi generi mondi cose diverse percorsi viaggi però devo avere la consapevolezza di partire con uno zaino leggero con dentro le cose giuste e questa consapevolezza a forza di scrivere cose poi mi è arrivata nel 2018 e loro ho detto beh lo voglio scrivere tutto costi quel che costi e mi sono messo a studiare poi a fare un sacco di cose e in un annetto di lavoro poi sono arrivato alla fine prego grazie della domanda ringrazio tantissimo per chiudere diciamo ringrazio veramente tantissimo tutti voi perché la presentazione di un libro tra l'altro a distanza di meno di un mese dalla presentazione del mio nuovo album potete immaginare voi cos'è stato questo anno per me cioè questo anno appena iniziato per me a gennaio ho presentato l'album adesso presento questo romanzo con una stanza una sala sempre così piena con occhi così attenti con spiriti così accesi così curiosi cioè grazie e non basta quindi speriamo anche penso a nome di Paolo di Alessandra speriamo di avervi dato un qualcosa di bello di gratificante di così di piacevole perché questo può essere diciamo il nostro modo di dirvi grazie e io ci tengo anche a ringraziare Paolo e Alessandra che mi hanno concesso un sogno che è questo qui di essere qui seduto con dei libri lì con il mio nome sopra mi fa quasi ridere però ci sono quindi grazie veramente allora per per voi ma anche per i telespettatori di Rossini TV voglio ricordare che il libro stasera è qui disponibile in vendita con l'occasione tipica di avere l'autore per 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 una una firma una una dedica anche non so e e questa sera in bundle come si dice in gergo con il disco in realtà l'album non l'abbiamo voluto mettere troppo in evidenza perché questa è la sera del libro per cui è il libro in vendita però se qualcuno che per qualche motivo magari non ha avuto l'opportunità di venire alla presentazione o avendo ascoltato anche la parte il lato musicale di Davide fosse incuriosito il disco c'è e per questa sera anche a prezzo speciale cioè legato in bundle e con un'offerta speciale per tutti quelli che invece questa sera non sono qua ma ci stanno seguendo dalle dagli schermi di Rossini TV il libro poi è disponibile a richiesta in tutte le librerie e su tutte le piattaforme digitali su Amazon in particolare e sulle piattaforme digitali per cui comunque non ci sono scuse per non se uno vuole se uno vuole se la fa trovare il modo lo trova bene ancora grazie a tutti per essere stati con noi grazie e noi restiamo qua e Davide è qua grazie mille grazie naturalmente anche da parte mia ad Alessandra che si è prestata a leggere questi estratti grazie con un'abilità che ci stupisce sempre di più nel senso che ogni volta è effettivamente un'emozione tra l'altro poi essendo arrivato il libro questo svelo un segreto essendo arrivato il libro poche settimane fa chiaramente leggerlo tutto per poter inquadrare i brani non era semplice per cui è ancora più difficile il lavoro di Alessandra che è riuscita pur leggendo degli estratti non contestualizzati perché erano letti a parte rispetto a una lettura del libro che sicuramente adesso lei si concederà ma da adesso in poi è riuscita comunque a rendere molto potente tutta la scrittura di Davide grazie ancora grazie Alessandra grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti